Nel centro operativo della protezione civile in via Romea 270 sono un centinaio di scatoloni che i volontari della Mistral stanno riempendo in maniera ordinata con i generi di prima necessità che tantissimi ravennati stanno consegnando da questa mattina. Tutto qui viene suddiviso in maniera quasi maniacale, dice sorridendo Flavia Sansoni, segretario generale della Mistral. La divisione avviene per tipologia di prodotto, la pasta addirittura per tempi di cottura. Tutto viene annotato in degli elenchi che poi verranno inviati alla protezione civile nazionale nei luoghi del sisma. Saranno loro, sapendo ciò che noi abbiamo in deposito, a farci delle richieste specifiche, altrimenti si rischia di portare là cose che non sono necessarie. Il coordinamento in questi casi è fondamentale o si rischia di creare solo del caos. I cittadini ravennati hanno dimostrato anche durante le altre emergenze di essere molto solidali, per cui eravamo certi del risultato della raccolta e credo che le immagini lo possano dimostrare, perché non sono neanche otto ore che abbiamo aperto il centro operativo per la raccolta e l'esito è quello che vedete. Dalle istituzioni sono arrivate a volte i messaggi un po' in contrasto, servono beni di prima necessità, no non servono, meglio donare del denaro, qual è la situazione? Ci sono stati diversi passaggi di informazioni, in realtà come succede in emergenza le informazioni si modificano strada facendo ovviamente. Nella zona del sisma in questo momento è ancora fase emergenziale alta, per cui è ovvio che la raccolta di viveri in questo momento per loro è un problema a coglierla, per cui l'indicazione è piuttosto versata, versata nei conti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e nel conto della Regione Emilia-Romagna. Ovviamente il discorso della raccolta dei materiali è assolutamente fondamentale, perché nel momento in cui comunque si tranquillizzerà e ci sarà il percorso del dopo fase emergenziale acuta, cioè il percorso di inizio del ritorno alla normalità serviranno dei prodotti e in quel momento ricomincerà la modalità prevista dalla Protezione Civile sempre di contattare, chiedere quello che c'è, serve, lo mandiamo in posto e torniamo. Queste sono le procedure della Protezione Civile. Quindi, se capisco bene, in realtà voi nei prossimi giorni non partirete con tutto questo materiale, seguirete le indicazioni e le richieste che vi verranno date direttamente dai luoghi del sisma? Esattamente, come abbiamo fatto anche in tutte le altre emergenze. Al momento cosa da parte della Protezione Civile non viene richiesto? Al momento, al momento, perché poi sicuramente le cose si modificheranno, niente coperte, niente abbigliamento, scarpe, giochi per i bimbi, per il momento. Poi ci sarà sicuramente tempo e luogo anche per queste cose, ma al momento viveri e, diciamo, food e no food, insomma, prodotti per l'igiene, insomma, vettovaglie, queste cose qui. Mi raccomando, per il momento. Poi, in seguito, magari sicuramente ci saranno delle modifiche, delle necessità, come normale che sia, insomma. Un'altra indicazione che è stata ripetuta molte volte da parte, appunto, della Protezione Civile, è già difficile arrivare in quei punti, c'è già una situazione complicata, nonché, appunto, drammatica. Il singolo cittadino non deve cercare di portare nulla nei luoghi colpiti. Assolutamente, non è per cattiveria, ma è proprio per permettere alla macchina dei soccorsi di essere effettiva, efficiente, come deve essere. Il singolo cittadino che non conosce le modalità di movimentazione, di soccorso, è solo un impiccio. A Ravenna sono, in realtà, in questi giorni nate molte iniziative di privati, di singoli cittadini. Adesso voi state cercando di fare un po' il punto di raccolta anche di quei beni depositati in altri luoghi. Sì, abbiamo cercato di contattare chi ha organizzato queste raccolte in maniera autonoma, che sono sicuramente importanti e danno il segnale della sensibilità che c'è sul territorio. Ma cercando, appunto, di chiedere, di confluire qui, come richiesto dal Dipartimento, non è una scelta nostra, non è vanità, ma proprio per le modalità che ho spiegato prima. Qui al Centro Mistral sono arrivati, appunto, tantissimi scatoloni, non si può non notare addirittura una serie di pallets che sono stati consegnati. Sì, una serie di pallets che, allora, tutti i cittadini sono tutti veramente generosissimi e andrebbero citati singolarmente. Però, in effetti, questa serie di pallets donati dal Consara, dalla Orva e dal Crai spiccano decisamente per la loro quantità. E quindi per la generosità, che comunque ammucchiamo la generosità di tutti i cittadini ravennati, perché chiunque abbia donato anche solo una piccola cosa, è il valore della piccola cosa donata, non della quantità.